Un'altra figura addirittura è quella di la Presidente della Ciudad Veraglia, un sorarissimo che è particolarmente sentito a Rosario, che con la figura di Nuzio Schiena, dissimonerà dal quale Presidente ha avuto veramente una presenza e un attivismo su territorio importante e io lo ricordo come beneficiario delle famose borse di studio e ricordo appunto dall'adolescente questa figura paterna, come diceva Nuzio Schiena, ma anche molto attiva e protettiva per alcune aspetti, per cui al di là del fatto che non possa personalmente aver avuto grandi occasioni di incontro, ecco, questo ricordo di questa figura mi è rimasto particolarmente timido. E poi viene la figura dell'editore e su questo credo che la storia parli e possa parlare più di quanto non possa fare certamente il sottoscritto. Una produzione libraria che stando ai lati ufficiali che io prendo da Wikipedia, quindi il ponte Wikipedia, si attesterebbe sui 2000 volumi, questo è quello che è scritto, forse qualcosa di più, immagino, e che unitamente all'autore di grandissima levatura unisce quelli che sono gli autori della passenicità appunto. Chi fa parte della generazione immediatamente precedente al boom di internet ha scoperto tramite i volumi di Nuzio Schiena la città di passato, la storia semplicemente immediatamente prima di Google, sostanzialmente, abbiamo potuto apprendere quello che in cui ci è rimasto, sostanzialmente, e che ci ha formati rispetto all'amore e all'affetto per questo territorio. E quindi per tutte queste ragioni, ovviamente come amministratori noi siamo orgogliosi che l'Utl abbia ritenuto di dedicare una serata celebrativa rispetto a quest'uomo che indubbiamente ha fatto la storia di questa città. Buonasera a tutti e passo la parola a Palmiro. Grazie a tutti. Io prima di intervenarvi brevi, molte proprie biografiche, per passare pure la parola al relatore, voglio proporvi una poesia di Giorgio Sabonaro che è riportata nel libro Muncioschina La parola degli altri. È una poesia che pennella veramente il carattere, la personalità di Nuzio che tra l'altro per me è stato come un padre, un maestro, è stato colui che mi ha spinto, mi ha indirizzata a ricercare appunto la personalità. Ed è stato il mio ripetitore. Don Muncioschina, loro parlano, parlano, parlano e tu li ascolti fumando. Non puoi non fumare se loro continuano a parlare. Sono tutti geni letterari e venderanno tanto sotto la protettiva della tua sigla editoriale. Per anni, Misi, per giorni cruciali, quanti ne hai ascoltati con la santa pazienza di chi ha altro da fare. Intanto sotto lo stabilimento nel deposito il menso, i loro lembri si ammonticchiano per anni. Un tempo sei stato tipografo al sovrano quando andavo facendo i titoli e alla sera, quando rientravi stranato, Maria ti aspettava amorosa. La tua compagna ti ha sempre aiutato e ti ha fatto con molto amore ben cinque figli. ora la tua scrivania è vuota, ma la tua presenza è vita. Ora i postulanti parlano con tua figlia Angela, che li sa da ascoltare con molta pazienza e con molta più fermezza della tua. Il caffè divina le sigarette, la tua luce maschia, sua dente, che chiamava accanto a sé Cosimo, ad ogni piesso sfinto. Hai stampato alla grande quasi duemila libri. In molte collane a te cave e molti scrittori sono a te devuti, per il fatto certo che gli egisi muti. Molte volte non riuscì a dir di no. Per loro, noi, proprio per questo ti siamo grati. Intanto, non avevi dubbi, i tuoi figli ti faranno per il tempo futuro molto, molto onore. Quando il risuffo proprio di ascoltare il telefono trillare, ti rifugiavi prontamente nel tuo arancetto ben citato e riflettivi continuando a fumare. non avevi dubbi sul tuo lavoro e con l'aiuto dei santi in paradiso continuavi. Io credo bene che tu ora sia sempre per sempre in ottima compagnia. Per fortuna, almeno i santi non hanno bisogno di editori. Abbiamo ancora bisogno di editori come Nunzio Sena. E ora, mi piace proprio brevemente, per rifrescare un po' la memoria, chi lo conosceva già, chi invece per farlo conoscere a chi non l'ho conosciuto, declinare alcune note biografiche e riportate dal mensile osservatorio nel gennaio del 2004, dopo la dipartita di Nunzio che avvenne il 31 dicembre 2003. Un anno veramente che si concluso è un'azienda nazionale per Fasano perché molti di noi versarono delle lacrime sincere sul ferro di Nunzio Sena. Allora, Nunzio Sena nasce a Fasano il 31 maggio del 1925. È orfano di padre, in tenera età, e dal rievo, come ha detto il presidente Carbonara, di Don Sante e di servi della carità di Don Guadella. Giovane, intraprendente, in bicicletta si vede a Pitignano per apprendere l'arte grafica che segnerà la sua vita e lo renderà famoso. Nel 1947 inizia a Fasano l'attività nei locali di Via Egnazia e così prende forma l'azienda artigrafica di Nunzio Sena che poi diventerà Grafic Sena. Nel 1950, come l'assessore sa, Nunzio Sena è presente alla prima mostra dell'artigianato fasanese che si teme nell'attuale edificio collodi delle sue elementari collodi, un giovanissimo, infatti c'è una foto bellissima, un giovanissimo Nunzio Sena. Alla fine degli anni 50 la produzione editoriale naturalmente diviene maggiore. Agli inizi degli anni 70 l'edizione dei libri si fa continua e anche più organizzata e i contenuti spaziano dalla fasanesità alla pubblicità. Nel 72 poi c'è il trasferimento da Via Egnazia nell'attuale viale Nunzio Sena che è l'ex viale della stazione. Nel 1000 contestualmente nasce il marchio Sena Editore che è sinonimo di qualità perché non dimentichiamo i libri di Nunzio Sena oltre per il contenuto sono belli da vedere anche graficamente, sono divili giorni. Si moltiplicano gli scambi con le università pugliesi, nazionali, con quella di Pavia, di Bergamo, la Sapienza di Roma, con le università anche in quella europea e tra cui la Sorbonne di Bergamo. Nascono la collana di carattere scientifico letteraria riviste specializzate tra le quali ricordiamo Puglia e Migrazione per cui ho voluto ricordare tra tutte le altre questa, perché è una rivista ufficiale dei pugliesi nel mondo che è diretta proprio dal nostro illustre relatore, il consor Angelo di Somma. Nel 1983 l'Università di Paria conferisce a Nunzio la laurea in lettere onoris causa. Grazie alla collana biblioteca della ricerca fondata in diretta dal professor Giovanni Dottoli i volumi schiena vengono pubblicati anche in coedizione con altre case editrici francesi. Le altre tappe della vita di Nunzio ora le percorreremo attraverso anche le immagini, che saranno commentate dal nipote omonimo Nunzio Schiena che io prego di venire qui e vedremo le immagini a cominciare da una foto presso l'Istituto Sacro Cuore di Pasana. Allora Nunzio a te... Buonasera a tutti. Sì, questa è la prima nel 35 all'Istituto Sacro Cuore. Qui invece nel 47 con il fraterno amico Bevi Lussi, mentre fotografa Gli Affeschi di Lava D'Antico. Qui invece nel 77 durante la presentazione di un libro a Martina Franca con l'allora sindaco Franco Bunzi, Paolo Grassi e Giuseppe Chiarelli, Presidente della Corte Costituzionale. Nel 78 con Alfredo De Massico, mentre sfoglia soddisfatto una delle pubblicazioni di Maria Antonietta Pastecchi del Ennis sul maestro del cuore. Qui nell'82 illustra il calendario artistico stampato in occasione del centenario della morte di Garibald. Nell'82 con Giovanni Dottoli durante la presentazione di un suo libro. Qui nell'83 con le sue adorate nicotine che oggi si occupano dell'attività di schieneditore. Pinti e Paola. Questo è un ritratto dell'84 di Dinamosca. Qui nell'87 il premio della cultura ricevuto dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giovanni Goria. Con Vittorio Sgarbi nell'88 ad una mostra del tempietto dell'arte a Laurito. Qui invece nel 90 mentre riceve la sciappa della pace dal Dalai Rama in occasione della presentazione del libro Tiber in Fiamme. In Vaticano nel 90 al cospetto di Papa Giovanni Paolo II dopo la pubblicazione del libro Una Veda di Speranza sulla vista del Papa Tarzo. L'incontro con Giovanni Spadolini nel 91 presso lo stabilimento con le autorità, le maestranze e gli addori. Qui sempre con Spadolini nel 91 che è scuola il catalogo schieneditore. Nel 93 la presentazione del libro di Antonietta Latorre sulla confraternita del Purgatorio con Monsignor Fonseca, Mimma Pasculli e l'allora assessore alla cultura Gaetano Di Gennaro. Nel 94 Parigi all'Istituto Italiano di Cultura per la presentazione della collana biblioteca della ricerca con l'ambasciatore italiano e il professor Giovanni Cotoli. Nel 98 il premio Attis d'Oro alla cultura assegnato dalla città di Casano. Questo è bello. Nel 2003 serata condiviale con i suoi amati dipendenti e i familiari. Nel 2004 Monsignor Padovano celebra una messa nei Capannoni un anno dopo la sua morte. E qui, nel 2013, Dina Mosca lo ricorda così, dieci anni dopo la sua morte. Punta. Quasi. Grazie, Monsignor Junior. Io voglio a questo momento, prima di passare la parola al relatore, dirvi il fatto che è stato presidente della società operale, ha già detto l'assessore che non mi ripeto. Dice del Dice Rosa, mi hanno portato lo scudo e una mensile di Ostuni e l'editore... L'editore appunto non ce lo schiena perché era molto ben voluto, conosciuto, Ostuni era quasi a Ostuni, qui c'era la cittadinanza onoraria ed è quasi, diciamo, la sua seconda parte. Le ho conosciute ben voluto un po'. Comunque lo metto a disposizione dei fotografi. Questa è la copia. Ed ora passo la parola al nostro relatore che è nativo di Sava, in provincia di Taranto, giornalista, scrittore con la passione per la polizia. Ha ricoperto la carica di sindaco di Trigiano, è stato direttore del settore stampa della regione Puglia e per conto di quest'ultima ha fondato e diretto, come ho detto prima, la Nuova Puglia e Migrazione, un binestrale dei pugliesi nel mondo. Con la schiena di Toro ha pubblicato tanti libri, tra cui Un giardino e una generaviglia, La raccolta di poesie, Lettera, Vittorio Sud alla Morente, i saggi Madre Puglia, L'occhio e la memoria, con il fotografo Angelo Saponare. E poi, chiedo scusa qua, Luxemburg, ritorni. Cerco 41 frammenti di emigrazioni, racconti, le storie di Atta. Attualmente è in pensione ed è il presidente del Club Rotary di Fasano. Allievi, voto su una parola. Buonasera a tutti. Mi chiedo innanzitutto, prezionalmente scusa, se lo dirò un po' lo scritto. Di solito non uso male, ma ci sono situazioni in cui mi sento fragile rispetto a non notare le emozioni e quindi ho preferito lo scritto. Il terzo dicembre del 2003 si spengono a passare un'unzio scritta, stampatore e editore, o meglio, stampatore e editore. Come certo si è sempre voluto considerare, e a mio avviso non è senza ragione, ma su questo è un'unzio di ordine. Io adesso mi chiederei, stampatore e editore, di Fasano. E anche questo non è senza ragione. Io però vorrei partire dalla premessa e da una confessione. Parlare di inunzio qui stasera è per me certamente un onore, un film di mezzo. Ma la cosa sinceramente mi crea qualche difficoltà. Un po' mi imbarazzo. Perché mi coinvolge sul piano di un'esperienza di felicità. Forse come a questo si riferiva la garangia che, nel proporre questa chiacchierata, di fronte a una mia tituffa mensagna, ha detto, panno col cuore. Sì, ma proprio questo è il problema. Ci sono cose del cuore che il pudore vorrebbe tenere per sé per sempre. E così farò. Evitando per quanto potrò altri nomi che non siano il suo. E poi, mi chiedo, perché proprio io? L'amicizia, dicevamo. Ma se c'era una persona che non resinava l'amicizia, questa è la proprio Luzio. Gli amici di inunzio sono stati e sono tanti. Tantissimi. E non certo che al merito nostro, vicino al toporeo. Ma perché Luzio Schena non concepiva relazioni umane e finanche professionali, direi, che non confluissero prima o poi in una sfera di amicizia. Parliamo di un'amicizia alta, mai sbagliata, forse addirittura severa e plena di pudore, fatta in confidenze rarissime, ma sempre di ricerca di sintonie profonde, di messa al minuto di pensieri e di prospettive. Il pudore, usato già più di una volta questo termine, è tonno ad usarlo. Il pudore rappresenta una forma nobile degli originali migliori. Nobile, ancorché è talora poco utile e soprattutto poco redditizia, in una società che ricalca sempre più i valori esasperati del marketing, anche sul piano personale. L'unzio era pieno di pudore. Forse troppo. Dipende da che tipo di società vogliamo prendere come riferimento finale. Io sono con lui. Forse perché anch'io sono figlio di una terra fatta di sasso e di orgoglio contadino. Una terra che ancora vive nel respiro antico della filosofia ebrezza, dallo sciaticismo, dello stoicismo, e dove la ricerca di sé e dell'acqua è alta di maglieutica e non esibizionismo. Certo, oggi, a essere fatti così, si paga a pegno. Purtroppo anche l'unzio l'ha pagato. Non a caso Rafferri Nicro parlava di l'unzio come uomo antico, ma per me, e credo anche per lui, si tratta di un complimento. Essere uomo antico non significa, però, essere giusti alla modernità. L'unzio non lo era. Il suo stabilimento tipografico non ha mai perso un passo del progresso tecnologico, sempre voluto e ricercato per non perdere mai un primato di avanguardia. Essere uomo antico era essere ancorati con la profondità dell'anima a valori ritenuti fondamentali e non barattabili, a ideare di perfezione e di bellezza, ma anche di solidarietà. Essere uomo antico significava, ad esempio, introdurre le moderne tecnologie di stampa, prima l'offset, poi il digitale, e continuare a mantenere in funzione le vecchie linotaie. La linotaia, diceva, incide il carattere sulla carta in maniera più profonda e rende il libro più bello. Diceva, ma nessuno mi toglierà dalla mente che egli non sopportasse l'idea, in onore dei nuovi sistemi di stampa, di dover licenziare e mettere così sull'astico i vecchi linotipisti, a cui ha regato da anni di condivisione, di fatica e di creazione. Si inunziare un uomo antico, per questo lo ottengiamo. Ma ora fatevi fare un passo indietro e torniamo a parlare di amicizia. In queste sere, in vista di questo nostro appuntamento, ho ripreso in mano un bel volume, in un suo schiena, le parole degli altri, che la famiglia vuole evitare dopo la sua scomparsa. Lì sono contenuti gli articoli di giornale e le testimonianze di tanti che hanno parlato di lui ogni domani nel triste evento. Bene, a rileggere quei testi, Bazzagniocchi è un dato, l'assenza di pobresia. Non ci sono frasi così dette di circostanza, come quasi sempre capita di leggere in casi del genere nei classici coccodrilli sulla stampa. I testi pubblicati, tutti intensamente avvertiti e sinceramente commossi, esprimono il senso dell'amicizia dei loro autori, confermando quello che dicevo sul dono ordinario che Nunzio faceva di sé come amico a chiunque lo avvicinasse. Chi dei presenti lo abbia conosciuto può sfuggire da definirsi suo amico. Non vorrei essere equivocato. Non è che l'amicizia per Nunzio fosse un prodotto da svedere o inflazionare sul mercato delle relazioni umane. No, l'amicizia per lui era più sempre un privilegio, perché impegnativa e vera. Se però tutti vivono per diventare amici, era perché lui era generoso. Sì, Nunzio Schiena era generoso, aperto come non mai all'umanità, sempre disposto a guardarsi attorno, a vedere negli altri delle persone, non facce, non numeri, non ruoli sociali, non cante, ma volti, che a loro volta li mandavano storie. E quelle storie lo esercitavano nell'ascolto e quando possibile era soccorso. Il suo impegno mai ventomeno nella società veraria era lo stesso verso chiunque si sedesse la sua littica scrivania. Era lo stesso che lo spingeva ad offrirti un caffè al bar della stazione o ad accompagnarti la lama di aburrosa, acquistata con orgoglio e appartenenza di figlio, dove mostrarti la complicità di un grande segreto l'insediamento rupestre e i suoi attreschi, o a chiederti di accompagnare alla gravinella, lì dove Ignazio ha levato il suo cavallo per pallarti a lungo di una sete di mortella. Allora capivi che queste non erano occasioni per passare un po' di tempo, per lui certamente troppo prezioso per poter essere sprecato, ma tappe inerudibili e necessarie per un cammino di iniziazione all'amicizia. Nunzio anche in queste cose era diretto e antimetorico. L'amicizia era fatta anche, forse soprattutto, di antimetorica, nel darsi appunto senza alcuna forma di doppia verità, senza fronte, con verità, con autenticità, con schiettezza, fin anche con dolcezza. «Chi possiede la dolcezza vuol dire che persona cara a Dio», così scriveva in memoriam l'artista Michele Daniani, che continuava «Questa dolcezza non cioschera la possediva negli occhi miti e nelle mani sempre aperte, con una porta che chiunque poteva abbarcare senza impedimento». Il rifiuto della retorica, dicevamo, questo lo rendeva credibile, ma era anche la caratteristica che impediva ai suoi interlocutori di essere a loro volta retorici. Lui non l'avrebbe consentito né perdonato, così, quando nel 97 nel Chiostro di San Domenico a Martina Franca fu celebrato alla sua presenza il cinquantesimo anniversario della sua attività di vittore, dopo tanti discorsi di elogio svolte con i tempi tutti al passato, fu inevitabile per lui prendere la parola per ricordare di essere ancora vivo. Ora, oggi non può dircelo, ma per lui dobbiamo evitare di dare a questo nostro incontro il senso della retorica, perché come scriveva nel 2004 Piero Pellegrini su Guita Attiva, il periodico di questa benedetta università, benedetta università, il tempo di lì, che lo dice ospita, sarebbe come considerare l'uncio dal vero morto, cosa che non è, perché, scriveva Pellegrini, egli sarà sempre presente e vivrà nella storia di Fasano e della regione. Nell'essere profondamente antiretorico, a forse ha avuto un grande ruolo il suo sentirsi sempre un artiere, come ha scritto Piani Bustodaro, un operaio, l'ultima espressione della concezione classica dell'arte, incindibile dalla manualità, dalla dimensione materica e archetipa della creazione. Stampatore, editore, dicevo prima. Era l'artiere che pretendeva divisionare personalmente le bozze, controllando i particolari. Era l'editore che valutava personalmente i manoscritti, leggendoli tutti prima dell'atteso si stampa. Lo stesso impegno, la stessa passione, la stessa professionalità, lo stesso mettersi in gioco completamente senza riserve, rimasto immutato dai tempi lontani in cui inforcava la bicicletta per andare a Puginiano a rubare i segreti del mestiere di Robertis. Perché il successo non lo ha mai cambiato, nemmeno per un attimo. Certo, non gli mancava l'orgoglio delle cose fatte bene, ma mai gli ha spostato gli apprezzamenti e gli riconoscimenti ricevuti sul piano della gratificazione personale esaltando se nemmeno. Erano sempre e comunque gli apprezzamenti e i riconoscimenti per il lavoro svolto, per il suo di lavoro e per quello di tutti i suoi collaboratori, da partire dal final di un'esercizio. che anche per morire ha scelto un giorno di festa perché il lavoro non si interrompesse. La sua casa era la sua bottega, anche se sullo sfondo c'era il mondo, quello degli affetti e quello fisico a cui parlavano di un'esercizio. Pontefice della religione del lavoro così lo definirà il pescovo Monsignor Domenico Patovano che aggiungerà Nunzio di nome e di fatto messaggero della cultura regionale. Forse non sto dicendo che Nunzio era anche un grande. In effetti stasera dovrei parlare anche delle cose che Nunzio ha fatto, dell'importanza dei suoi impegni ritoriali, dell'espiro nazionale e internazionale dello stesso, delle sue pollane prestigiose e conosciute nel mondo, delle coedizioni con i grandi ritori parisirini, delle sue riviste, dei numerosi prestigiosi autori molti di quali in lungo hanno potuto trovare quella possibilità di esprimersi negata dalla grande editoria, dell'udienza privata del Papa, della Vista e della Reano, della Vista del senatore Spavolini sotto i segni di Ignazio Sciaglia, della collaborazione con prestigiosi sedi universitari, del conferimento della Lava non riscausa dell'Università di Pavia, della cittadinanza conorale di Ostubi, dei figli onorifici conferiti dalla Repubblica italiana e da quella di Francia, dell'inimitabile bellezza delle sue edizioni, della prestigiosa presenza dei fiere del libro di Parigi, di Torino, di Francoforte, dei 2000 titoli in catalogo, in pratica di aver fatto di Fasano un centro di infargiamento culturale nel mondo straordinario e unico. Spero, non vi ripetite. Ma sono cose che già sapete o dovreste sapere. Vorrei cavarla se non lo consentite con un accenno di rassegna staffa utilizzando il libro cui accendavo prima. Solo qualche titolo. Una leggenda del nostro novecento, così giovanigola. Grande Fasanese ormai nella storia, così Paolo Magno. Ti ferrai omaggi per una folla di libri, così Palmina Cannone. Nunzio Schede, un garantuomo del sud che è scattato d'orgoglio di essere Fasanese, così Francovisi che aggiungerà a Fasano ha perso il suo testimone del mondo. La religione del libro, la convinzione di contribuire a salvare il mondo, così io stesso, su Piazza Caglia. Omaggio a Nunzio Schede, la signora dell'editoria, così Giovanna Modiglio. Editore illuminato, legato alla sua terra, così Franco Presicci e si potrebbe continuare ancora e ancora. Ma è tempo ora di andare oltre, chiedendoci chi era da Fasano Schede. rispondere a un editore è facile, ma anche il punto di partenza per un'altra domanda. Da dove nasce l'editore di un Gioschede? Non è Fugliolare, la sua è stata un'infanzia povera, di Orfano, ma proprio in questa esperienza può esserci la prima risposta, nella scoperta della paternità morale di non sante verne. Nunzio nasce in un contesto di genitorialità adottiva capace di andare in due direzioni fondamentali, la fede e il senso del bello. Non lo abbandoneranno mai, così come non lo abbandonerà mai la passione per l'arte pittorica, la stessa di non sante, che lo spingerà a fare la chiesetta sconsagrata di Laureto, il suo personale tempietto dell'arte. ha l'uso di artisti e di amici. Dalla sintesi delle due cose viene da fuori il senso del bello e dell'armonia come religione, come missione salvifica. Perdonatemi una autocitazione, alla sua morte scrivevo Chi stampa libri salva il mondo. Nunzio scrive in tal senso è uno che ci credeva. Federe a un modello antico di stampatore e editore Nunzio aveva fatto del libro la sua religione. Libri da toccare, da annusare prima ancora che da leggere. Libri come scelta di virtù per l'assenza un territorio, un popolo alla sua stessa esistenza. come un missionario della lettura, della cultura, dell'ancestrale rapporto tra gente, pietre e segni di civiltà. E già, perché il bello del Nunzio era proprio quel rapporto fisico, prima ancora che culturale, con l'anima della sua terra, della sua fasana. per questo se ne dire che Nunzio schiena nasce di stesso da questa terra, terra di storie di natura, di popoli e di gente. E questa era la religione che si sentiva e voleva essere sacerdote e profeta. Io ho sempre visto Nunzio schiena come un paradosso. Il paradosso di un uomo di cultura senza essere un intellettuale. Nulla in lui c'era dell'intellettuale nel senso classico e comune del termine. Nel senso alla moda dell'uomo che della cultura intende soprattutto fare lo strumento per rinventare un ruolo sociale. e uno status quasi sempre di separatezza dall'esperienza comune. La sua stessa vicenda personale di seconde di ragazzo che aveva fatto del lavoro e della durezza della vita e suo vero percorso di istruzione sarebbe andata in un'altra direzione. Ma è impossibile non considerare Nunzio un grande uomo di cultura. Ma la sua cultura era la cultura di questa terra. La cultura della splendida strada di Attis nel museo di Ignazia degli olivi secolari degli ipogisagri delle massevie delle colline coltivate a terrazze delle chiese ruggali delle torri saracene delle marine che guardano all'oriente dei cavalieri di Malta degli spiriti liberi con i gnavi oceani pronti a pagare con la vita il sogno di un pensiero sovrano. La continuta di questo scrindio di storia e di bellezza benedetto dalla provvidenza gli ha fidato per secoli a mani sapienti e amorevoli come le mani di Luzio. E' stata questa la cultura che ha mosso l'uncio schiena verso il sogno realizzato di fare del libro lo strumento di una salvezza che da qui la Fasano partisse verso il mondo. Ha ragione la famiglia che non è dire che con un cio schiena si è scomparso un pezzo di cuore della Fasano coraggiosa e leale. Un cio schiena non poteva non essere figlio di questa Fasano ma è da qui che occorre ripartire perché questa stessa serata non sia inutile e perché Luzio possa davvero continuare a vivere. Grazie. Io ringrazio il dottor Angelo Di Summa perché veramente ha parlato col cuore ed è riuscito ad emozionarci abbiamo visto non cio schiena lo abbiamo sentito e personalmente veramente non riesco neanche a parlare e quando lei ha citato ma ringrazio anche delle citazioni il preferaio perché io l'ho definito il preferaio magico perché essendo stata una docente ed essendo stata un'amica diciamo anche a chiesa di un zio schiena lo chiamavo spesso perché lei sa i ragazzi non leggono volentieri e devo dire che ci sono state tante iniziative e lui abbiamo fatto a scuola la città del libro la settimana dedicata al libro e lui veniva è vero Angela ti ricordi quando veniva ed era felicissimo anzi a scuola durante un'altra manifestazione dedicata proprio alla lettura avevano creato una mostra di libri contando via per esempio del giallo dei libri gialli via dei libri fasanissi e facendo in questo modo proprio avevano creato una toponomase proprio all'interno dell'istituto e lui quando venne fu felicissimo e veramente si emozionava sempre anche quando presentò il mio primo libro raccontando fasano sugli artigiani e lo presentando proprio lui volle che fosse presentato nella società operaia ricordo quella sera lui era commosso proprio aveva le lacrime agli occhi perché il nunzio era anche questo io sul libro citato sempre in un giustino le parole degli altri e l'ho ricordato anche in un altro modo scrivo rammento le lunghe chiacchierate di tipografia o quanto lo incontravo per la via soprattutto il corso Vittorio Emanuele e lui mi parlava della sua passione per la campagna e per la caccia perché la terra umida diceva che resisteva sotto i piedi l'aria terza gli odori del bosco in autunno le iridescenze della della rugiada gli umori proprio della natura lo rivigorivano e lui che come ho detto prima fumava fumava spesso aveva bisogno di respirare proprio perché la natura la campagna era una boccata di di ossigeno e io rivedevo in Nuzio proprio l'ebbrezza di un bambino di un bambino cresciuto troppo in fretta perché in fondo Nuzio aveva anche l'animo del del fanciullo era anche un un poeta a a suo a suo modo e diceva che la sua ricchezza dopo la famiglia erano naturalmente i libri e come ho detto prima quando lo incontravo a questi incontri con gli alunni lui si intratteneva con questi ragazzi parlava dei suoi libri parlava di di come si stampasse un un libro e avevo ricordato stasera l'amicizia che lo legava a Don Sante Perma io voglio ricordare prima di concludere che Nuzio Schiena aveva anche un'altra amicizia con un altro prete straordinario di Pasano Don Vito Sibilio erano due personalità diverse però erano accomunate da una grande amicizia ed anche da una concezione antica dell'etica della morale e di concepire l'amicizia così come ha parlato ha detto poc'anzi egregiamente il relatore e io voglio salutare Muntoschina dopo aver ringraziato tutti aver ringraziato anche la famiglia tutta la stampa e tutti i presenti al nome dell'università che tra l'altro l'università è stato socio onorario della nostra università del tempo libero e voglio salutare Nuzio con i versi della di Cassia Morca con Gido quando morirò lasciate il mio balcone aperto il bambino mangia arance dal mio balcone lo vedo il vietitore taglia il grano dal mio balcone lo sento quando morirò lasciate il mio balcone aperto e noi lo abbiamo lasciato veramente Fasano l'ha lasciato veramente questo balcone aperto anni stasera sono sicura che Nuzio è qui con noi grazie e vi do appuntamento alle 13 marzo per l'alto giovedì culturale e ora consiglio un omaggio all'illustria relatore Angelo con un libro sui altri uomini in luce casanissi e questo è il tagliardetto dell'università grazie dottor Di Somma e grazie a tutti grazie 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 per la visione!